Cosa ha avuto stanotte? Come sta adesso? Si sta meglio? Parla con l'avvocato per favore. Ancora un colpo di scena inassisa, ancora un malessere. Padre Graziano, presente in aula con i suoi legali, Francesco Zaccheo e Rizziero Angeletti, non si è sentito bene ed è così slittato l'interrogatorio. Sarebbe dovuto essere il grande giorno per il frate congolese accusato dell'omicidio di guerrina piscaglia della soppressione o dell'occultamento del suo cadavere, ma invece l'interrogatorio è stato rinviato al 1 luglio, data della prossima udienza del processo in corte d'assise, che vede come unico imputato il religioso congolese visse le sue condizioni di salute. Questa mattina alle 7 ero in Curia e abbiamo chiamato un medico ed era 150 la minima, quindi tutta questa notte non è riuscito a dormire, non si sente bene, però mi ha detto andiamo lo stesso, voglio fare questo confronto. Siamo partiti alle 8 da Roma, lui aveva sempre mal di testa. Io credo che sia interesse di tutti avere un padre Graziano in condizioni ottimali per rispondere a tutte le domande, confrontarsi con tutte le parti in gioco, per cui sentirlo oggi nelle condizioni di salute in cui si trova, e solo la sua onestà intellettuale ha consentito di essere presente all'udienza per dimostrare la sua volontà di rendere l'esame, io credo che sia appunto un interesse di tutti e sia giusto metterlo nelle migliori condizioni per poter soddisfare le esigenze di tutti. Lui ancora una volta, io lo ribadisco, non si sottrae a nessun contraddittorio. E' comunque pronto per portare la sua verità settimana prossima in aula, padre Graziano? Padre Graziano non porterà in aula la sua verità, padre Graziano porterà in aula la verità, che sia condivisibile o meno dagli altri è un problema di secondo piano, sarà poi agli avvocati riuscire a persuadere la corte che sia la verità. Assenti invece gli altri due testimoni, gli ultimi delle parti civili, il medico di Guerrina Piscaglia ed una signora di Perugia che avrebbe raccontato un episodio particolare in cui il religioso avrebbe spogliato con gli occhi la giovane figlia. Entrambe le testimonianze sono state revocate. La corte ha ritenuto che non hanno rilevanza perché sostanzialmente è questa la risposta, a noi fa piacere perché se non ha rilevanza la deposizione di queste persone vuol dire che l'indicazione che avevano dato, le parti che li avevano indicati era un'indicazione effettivamente inutile, perché sono stati indicati testi che non sono rilevanti.